Benvenuti, ho sforato di nove minuti e quindi passo la parola veramente con grande gratitudine alla dottoressa Simona Nava che sarà l'interprete del grande Marcos Stentor. Simona ci sei? Presente! And thank you so much. Oh you're welcome. Io intanto ringrazio Giorgio e sottolineo brevissimissimissimamente per chi ancora davvero non lo conosce e non mi conosce che sono una ginecologa e utilizzo questo tool che è l'S Drive proprio in quel periodo che Giorgio ha detto essere magico cioè il periodo del perinatale mi sta davvero aiutando tanto nel risolvere delle situazioni ad esempio di infertilità inspiegate, poliabortività quindi è davvero un momento se lavorate con le donne in gravidanza è davvero un dispositivo molto molto utile e ti guida proprio nell'anamnesi, ti dà delle idee, del pensiero che altrimenti non riusciremmo a pensare l'altro giorno ad esempio un uomo di una coppia infertile è venuta fuori molto molto inquinato di campi elettromagnetici e l'abbiamo solo con questo test convinto a togliere il cellulare dalla tasca dei pantaloni che non capisco perché voi maschietti dovete usare il cellulare nella tasca del pantalone. Comunque io non voglio togliere tempo perché siamo tutti qui per sentire il professor Stanton che ci illumina, che ci guida e quindi sono a vostra disposizione. Grazie. Welcome Marcos. Well thank you so much for this introduction and thank you Simona for translating here which is a tremendous help since my Italian is very scarce. Quindi ci ringrazia e mi ringrazia perché si scusa che il suo italiano non è sufficiente e necessita la mia traduzione. Above ordering at the restaurant it won't work so therefore we're going to have to do this in English. Parla italiano solo per poter ordinare nei ristoranti altrimenti dobbiamo parlare in inglese. But I'm working on it. Ma ci sta lavorando. Okay well welcome everyone and I'm thrilled that we all share knowledge about working with the S-Drive in such a big round. Quindi è molto contento di poter condividere la conoscenza di questo S-Drive e che spera che tutti vogliamo condividere questa conoscenza. The S-Drive is an awesome tool in using with the patient, using it in the clinical office. L'S-Drive è davvero amazing vorrei dire, cioè è davvero magico nell'usarlo con i clienti nelle cliniche, cioè proprio a stretto contatto con i clienti. If I may start here. So Simona you should be able to see the presentation now. Sì, lo vediamo. Mi piacerebbe farvi degli esempi pratici e creare dei ponti per spiegare come usare l'S-Drive. Per coloro che ancora non mi conoscono, non si erano ancora uniti, io sto parlando dalla città di Lübeck a nord della Germania. And Giorgio, as a short correction, you had shown two dates for the upcoming workshops on the S-Drive. The 17th was incorrect. It's October 10th and October 31st that we'll do a workshop on the S-Drive. Thank you. Ok, sta corrigendo la data che Giorgio ha indicato prima del 17 che era incorretta ed è da correggere con il 10 di ottobre, mentre rimane il 31 ottobre. Sono le due date per i successivi workshop. So that much Italian I understood. Ok. Very fine. So, using the S-Drive is something that just expands the horizon in the way you treat people and in the way you advise people. L'uso dell'S-Drive aumenta il nostro orizzonte nel cercare di aiutare e suggerire, dare suggerimenti alle persone che vogliamo curare. The point is to look at where the person individually actually is. Il punto è nel cercare di vedere dove è realmente l'individuo in quel momento. You might say, well, you know, we're doing the anamnesis and we're doing blood results and ultrasound and whatever. That's actually how we're doing it. You might respond that way. Noi potremmo anche chiedere, ma già facciamo l'anamnesi, le analisi del sangue e siamo abituati a lavorare così. Perché dovremmo aggiungere un altro strumento? And that is true. And that is valid. È vero. È anche valido. Il punto è che molti campi di disturbo sono non presi in considerazione ed è quindi un grande vantaggio ampliare il nostro orizzonte di ciò che possiamo vedere. The S-Drive is used in very different setups. L'S-Drive è usato e può essere usato in moltissimi differenti setting clinici. Used in hospitals. Used in medical offices. Used, for example, with dietary consultants. Può essere usato negli ospedali, nelle cliniche ambulatoriali o durante dei consulti per consigli nutrizionali. Other examples, Giorgio had already shown you that, for example, professional sports coaches and professional colleagues that work together with athletes optimize their performance. Un altro esempio che ci ha anticipato già Giorgio è poterlo applicare agli atleti come Giorgio ci ha introdotto nelle addirittura squadre di calciatori professionisti. È molto utile anche nell'inquadrare le performance sportive. The same is true for specific reports. There are specific fields for horses, for dogs, for cats and they apply equally in the veterinary medicine. Quindi ci sono poi degli specifici report dell'S-Drive per argomenti molto particolari e ad esempio sono stati messi a punto anche quelli per i cavalli, i cani e i gatti che quindi stanno aiutando anche la medicina veterinaria. And children. E per i bambini. Now, this way for the adults, for the grown-ups, you expand the horizon, you expand the view on things. But for those that don't have a voice, you give them a voice. Allora, l'S-Drive applicato agli adulti consente di ampliare gli orizzonti che possiamo ottenere con l'anamnesi o gli esami del sangue. L'S-Drive ci aiuta ad aumentare gli orizzonti. Ma per quelli che non hanno una voce, quindi si riferisce agli animali e ai bambini, con l'S-Drive gli si dà una voce. You give children and animals a voice in how they are, where they are in terms of health. Gli si dà una voce proprio perché S-Drive indica dove sono, in questo caso gli animali e i bambini, nella loro salute. cioè ci dà un punto di partenza. But to snap back to those that have a voice, this clinical application is of high value in individual therapy. Per tornando agli adulti, a quelli che hanno una voce, questo tipo di analisi è di alto valore anche dal punto di vista terapeutico. And to be very specific, it does not compete with other analysis like laboratory, like ultrasound. There is no competition to it. It's an expansion of the view. E per essere molto preciso, non entra in competizione con altri tipi di analisi, tipo quelle di laboratorio, ma è un'espansione, vuole essere un'espansione, un aiuto a queste analisi, a queste altre analisi, non in competizione. Il problema è che nei nostri organismi ci sono talmente tante influenze esterne che non vengono mai considerate o misurate. As one example, the influence with electromagnetic waves, with frequencies is so intense that it influences sleep rhythms, hormonal excretion and many others. Un esempio è proprio quello dei campi elettromagnetici la cui intensità può danneggiare il sonno, la regolazione ormonale e non ci sono mezzi per rilevare questo danno. And in fact, one point where this influence is greatly noticed is in the mitochondrial performance. In realtà, l'impatto dei campi elettromagnetici può essere osservato, cioè l'intensità di impatto dei campi elettromagnetici può essere osservato nella funzione mitocondriale. So, how much energy you have, how tired you are, how tense your muscles are, have a direct correlation with those epigenetical influences. Ad esempio, quanto siamo stanchi, quante energie abbiamo, quanto sono tesi i nostri muscoli, dovrebbero essere sintomi che ci portano a pensare a questo tipo di influenza. I would like to show you something to make this a little more clear. Vorrei farvi vedere una roba per rendere questo concetto più chiaro. to switch screens. Here we go. Cambiato schermo. Okay, fine. So, if normal analysis is restricted to certain compartments. Quindi le analisi normali sono ristretti a determinati analisi. Compartment. A determinati compartimenti, scusate. If you take laboratory results, you typically get those results out of the blood. Okay, se facciamo le analisi di laboratorio, tipicamente otteniamo queste analisi dal sangue and to a certain degree of other tissues in terms of enzymes or certain signal molecules. E per un certo verso anche da altri tessuti come possono essere per l'analisi di enzimi o altri segnali dal tessuto connettivo. But this view is restricted to those compartments mainly. Ma questa view, questa visione è ristretta a questi compartimenti. Looking at other factors in the connective tissue like certain toxins that might be included here is left out. Considerando però il tessuto connettivo se noi immaginiamo alcune molecole che sono intrappolate nel tessuto connettivo queste molecole sono non possono essere prese in considerazione sono dimenticate. Whether there is oxidative stress and stress on the membranes and structural proteins is not noticed qualora ci fosse uno stress ossidativo nelle membrane ad esempio nelle proteine di membrana questa cosa non verrebbe notata. Whatever actually takes place in the cell is only partially covered actually. Tutto ciò che in realtà prende luogo ha luogo all'interno della cellula non viene notato con le analisi del sangue. Riusciamo a vedere alcune con le analisi del sangue alcune situazioni intracellulare se la cellula in realtà si degenera e va incontro ad apoptosi cosa che potrebbe far aumentare alcuni livelli enzimatici nel sangue. But if you look at different factors inside the intact cells very little actually shows in any form of blood analysis. Ok, in realtà nelle analisi del sangue noi riusciamo a vedere pochissimi pochissimi valori di ciò che è intracellulare. addirittura se noi volessimo vedere come funziona all'interno del mitocondrio in nessun modo riusciremo a vederlo con le analisi del sangue. With the exception of maybe M2PK and a few other things you don't really see anything of that. The M2PK is one measured value. M2PK It doesn't matter it's just one enzyme marker. The point is within the cell let me give you one example if you take potassium level that is something you don't measure in the blood. Non lo misuriamo di solito nel sangue. The potassium value might be absolutely perfect and the blood has zero absolutely zero reference to what the potassium level inside the cell is. In realtà il potassio potrebbe essere assolutamente normale nel sangue circolante ma ha zero capacità di determinare quanto potassio è realmente nelle cellule. And due to the excessive import of glucoses into the cell in exchange for two potassium many people actually are potassium depleted inside the cell. In realtà per il fatto che l'eccessivo entrato di glucosa nelle cellule fa uscire due molecole di potassio molte persone oggi come oggi sono a livello ridotto di potassio intracellulare. The point and why I'm talking about this so often is basically anything that happens over the membrane is dependent on the different levels of sodium and potassium sodium on the outside and potassium on the inside. Il motivo per cui parlo di queste cose molto frequentemente è proprio perché molte delle reazioni intracellulari dipende dal gradiente transmembrana tra gli ioni sodio che sono prevalentemente esterni e gli ioni potassio che sono prevalentemente interni alla cellula. so the cell membrane potential in millivolts changes and therefore transportation processes break down because the propulsion is gone. Per cui il potenziale di membrane in millivolts cambia e questo può determinare ok the potential changes in millivolts the membrane potential changes and the transport functions over the membrane break together because the propulsion is gone. E se si perde la proporzione noi perdiamo anche la capacità di trasporto placenta di trasporto della membrana. Ok and those are just a few examples. we could talk about the blood brain barrier meaning the glia around the cells in that area meaning within the blood you can very limited only see inside to that compartment so those are just examples. Allora sta solo facendo degli esempi di come ad esempio se si fanno analisi del sangue noi non riusciamo a vedere praticamente niente del compartimento oltre la membrana glia praticamente la membrana delle cellule nervose ok so as I said those are just those are just examples of what to look at and now obviously the s drive uses an entirely different approach ok 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 quindi erano solo esempi delle limitazioni ad esempio delle analisi del sangue e ora ci parlerà del nuovo approccio che possiamo ottenere attraverso l'S-dry using hair and hair follicle is a bridge into reading into the body information ok usando il capello e soprattutto il follicolo del capello è come se usassimo un ponte che ci trasferisce dentro il corpo there are only a few highly proliferative tissues in the body meaning replicating frequently and the hair follicle is one of them ci sono pochi tessuti che hanno un alto grado di replicazione cellulare e il follicolo dei capelli è uno di questi e in realtà usando i capelli noi abbiamo anche in qualche modo uno sguardo storico su quando quel follicolo quel capello è stato prodotto e quindi ci dà informazioni anche storiche il capello basically on in a very small sample you have a representation of blood of connective tissue of many other factors even up to immune cells that are represented here in in realtà prelevando piccole quantità di bulbi di capello noi possiamo osservare anche residui di sangue tessuto connettivale e anche cellule del sistema immunitario now the s drive uses this sample to read the bio information field of the body l's drive usa questo campione completo quindi di tutto ciò che vi ho appena detto per dare uno sguardo proprio al corpo and it has shown throughout the years that the hair follicle here is the best approach to find to detect the most precise signals and the most precise indicators of what the situation is one thing too is that laboratory results typically are more of a still picture of a picture that doesn't move in in realtà appunto nei risultati di laboratori praticamente è come se ottenessimo una immagine ferma che non si muove con 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 l'eccezione di alcuni fattori come Hb1 HbA1c for glucosa and a few others esami di laboratorio non vanno fatti, anzi vanno fatti, ma vi sto dicendo che è necessario avere un'espansione della visione di questi risultati. Una cosa che dovete sicuramente sapere e ricordare è che gli esiti di laboratorio in qualche modo sono sempre riferiti a range di normalità di una popolazione, tra virgolette, considerata normale. E se guardiamo la distribuzione gaussiana con le varie devazioni standard, è il modo con cui compariamo per una popolazione considerata normale. Now the approach from the S-Drive is very different to that. It confronts the bio-information field with certain information and looks for the response. It detects the epigenetical influences onto the body. e coglie la influenza epigenetica di quella sostanza all'interno del corpo. individualmente e in più cerca l'intensità della risposta. To say it in different words, the blood value of a certain vitamin might be in a normal range. Per dirlo in diverse parole, ad esempio, il livello ematico di una vitamina potrebbe essere nel range di normalità. But the response of the body might say, I need a lot of this because right now there is a triple, quadruple demand for that, for certain processes. Ma l'S-Drive potrebbe rilevare una richiesta esagerata del corpo per quella vitamina perché magari in quel momento c'è una necessità triplicata o addirittura quadruplicata per quella specifica vitamina. That's a very different situation because a woman during pregnancy, a person that consumes certain toxins, a person that's under a lot of stress and duress, totally different demand, demand. Ad esempio, noi non possiamo considerare la domanda, la necessità di una vitamina ugualmente in una donna in gravidanza, in una persona esposta ad elevati livelli di una determinata tossina, o a una persona sotto fortissimo stress. Potrebbe aver bisogno di esagerati livelli di vitamina. And so this is about an individual response. E quindi questo è la risposta individuale che noi dobbiamo andare a cercare. Looking specifically at the demand. Guardando specificatamente alla domanda di quel corpo. Above that, the S-Drive report also contains an overview of the health situation. In aggiunta e addirittura sopra a questa considerazione, l'S-Drive contiene un'indicazione di una situazione individuale generalizzata della salute. Oltre ai valori individuali, guarda proprio i sistemi, i sistemi individuali. E se questi sono in armonia o in disfunzione, i sistemi. Quindi l'S-Drive in realtà dà una visione generale della nostra capacità di mantenerci in salute. Ad esempio, pensate, quale sistema vi indicherebbe se un individuo ha carenza di sonno? Quale sistema direbbe questa persona beve troppo poco? Or, this person's health is mainly under the influences of the emotions. Oppure, quale sistema vi potrebbe dire la salute di questo individuo è principalmente sotto l'influenza delle sue emozioni? This single pie chart alone is a highly potential tool in evaluating the access to the patient. Quindi, solo questo schema è altamente potenziale nell'individuare quali sono i punti deboli della persona. Ad esempio, in questo specifico esempio, se la persona ha un difetto nella sintesi proteica, la domanda che ne consegue è come potrebbe essere il sistema degli enzimi essere adeguato? If the person has a problem in its sugar metabolism, obviously there is a shortcoming in energy production. Ad esempio, se nella persona c'è un difetto nel metabolismo degli zuccheri, di certo dovremmo pensare che a un certo punto dovrebbe avere un difetto nella produzione energetica. Now, you see the importance and the potential behind these perspectives. Quindi, riuscite a vedere il potenziale dietro a questi schemi? At the same time, the report also shows three overview pages on specific subjects. Oltre a questo, il report ha tre pagine specifiche su specifici sistemi, subjects, materie. Yes, the one is on the main influences on the immune functions. The other one is on the main influences on the gut and the main influences on the cardiovascular system. Ok, la prima pagina riguarda gli aspetti più peculiari del sistema immunitario, un'altra pagina specifica il sistema intestinale e l'altro il sistema immunitario. No, cardiovascolare, scusatemi. Immunitario, intestinale e cardiovascolare. Here, for example, an overview on the main influences on the immune functions. Qui, ad esempio, è uno schema delle principali influenze sul sistema immunitario. Looking at the number values on the right side, in the second column from the right, you can see which category has the most significant influence on the immune system. Se guardate la colonna dei numeri, la seconda colonna da destra, potete osservare quale settore di influenze raggiunge il valore maggiore, che vuol dire che è il gruppo di influenze che hanno più impatto sul sistema immunitario. And excuse me, we're doing a little bit of German course, I just saw it, I put it in a German one. Ok, si scusa perché i termini sono in tedesco. Ok, so we see here that the antioxidants have the most significant impact on rebalancing the immune system. In questo caso specifico, possiamo vedere che gli antiossidanti hanno l'impatto più significativo nel sbilanciare il sistema immunitario. And at the same time, it even shows which ones. E nello stesso tempo mostra anche quali sono gli antiossidanti che mancano. L'ultima colonna sulla destra sono tre categorie di necessità di supporto del sistema immunitario. Il più in basso sarebbe una persona che ha bisogno poco supporto. Poi c'è la quantità intermedia e il rettangolo più in alto indica che quella persona ha bisogno di un alto supporto per il buon funzionamento del sistema immunitario. Se c'è una situazione davvero emergente, noi otteniamo valori anche superiori al cento nella domanda di supporto. Quello è un valore di domanda di supporto. Questa seconda pagina ci dà le indicazioni sulla necessità di supporto del sistema intestinale. E cardiovascolare. Non dà solo un'indicazione della domanda di cambiamento. Se qualcuno ha già una diagnosi di patologia in questo campo. Se qualcuno ha già una diagnosi di patologia in questo campo. Come ad esempio un problema di circolazione vascolare come il morbo di Renault. Se abbiamo, ad esempio, dei problemi circolatori sia oftalmici che auricolari. Atherosclerosi. Coronary heart disease, eccetera, eccetera. Malattia coronarica. Noi qui troviamo le indicazioni anche per quello che potrebbe essere un domanda di supporto per ridirezionare il supporto. Tutto il sistema è stato disegnato e studiato per dare indicazioni per ottimizzare le risposte di questi sistemi. Quindi immunitario, cardiovascolare, intestinale. Ecco perché abbiamo introdotto il termine epigenetica. Perché se siamo in grado di ottimizzare le risposte ai fattori epigenetici, noi ottimizziamo tutto il funzionamento del corpo e la nostra salute. Io ho disegnato questo report e per me la cosa più importante è che sia un report facilmente leggibile, facilmente comprensibile. And it is a difference if you have a big list of a hundred values and you have to pick what's important. È diverso nell'avere centinaia di valori e poi noi dobbiamo sottolineare ciò che è importante. Questo report ci dice ciò che è importante. Whether things are needed to take. Ci dice qualora ci siano delle cose da prendere perché sono necessarie. Dipende dai vari campi analizzati come in questo caso che ci sono i minerali. If there's a lack of lithium, people tend to be frustrated, tend to be depressive. Se c'è una carenza di litio, le persone tendono ad essere frustrate e depresse. They have a problem in motivating themselves. E hanno un problema nell'automotivarsi. Se c'è una carenza di silicone, noi possiamo avere problemi negli enzimi, soprattutto del tessuto connettivo. Just as an example, or zinc for here is an example. Un altro esempio è ad esempio lo zinco. Because zinc is such a universal tool within the immune system, within the metabolic system. In many key positions, zinc plays a massive role. Lo zinco è essenziale ed è un fattore chiave in moltissimi sistemi. Il sistema immunitario, il sistema metabolico. And depending on the individual situation, this is very different in terms of its emphasis. Ok, I'm saying this is a different example of a different person with a whole different range of needs. Ok, questo è un esempio diverso di una persona completamente diversa con completamente diverse necessità di domande. Qui c'è una larga fetta di necessità per lo zolfo, che è un elemento chiave nel sistema di depurazione. E quindi ci si può anche immaginare che questa persona possa soffrire di una patologia cutanea. A lack of magnesium reduces the energy intensity of ATP in its effectiveness. Una carenza di magnesio può ridurre l'efficacia energetica anche nella produzione dell'ATP. La carenza di ferro non è rilevante solo per la produzione dell'emoglobina. Ma è anche essenziale nella superossidodismutasi dove ad esempio si produce H2O2 per la difesa contro i batteri. Ok, per cambiare schema noi in realtà abbiamo un'immagine di quali sistemi di supporto, necessitano queste, in questo caso sono le vitamine, no? Quali sistemi di supporto possono avere queste domande di valori, di necessità di domande? Quindi, questo è un altro individuo, guardate, è molto diverso da quello di prima, ed è un lavoro individuale quello che fa esse drive. Per esempio, questa persona ha un'alta richiesta di B5, l'acido pantotenico. È molto probabile che questa persona ha un alto livello di stress. Perché la vitamina B5 è essenziale per il buon funzionamento del medio cervello, il centro dello stress. Nello stesso tempo c'è una carenza di B9 che è essenziale per il controllo dello stress. Ok, questi sono solo esempi. Questi sono solo esempi. Senza andare adesso nei dettagli di tutti questi schemi, l'importante è che cogliate la necessità che con S-Drive si può espandere la visione. Per riportare l'attenzione a situazioni che non si stanno più muovendo. Se guardate questa figura dei diversi antiossidanti. L'acido alfa-lipoico è necessario anche nella catena del glutatione per aumentare la capacità di detossificazione. Anche il sulforofano è necessario in questo processo di detossificazione. Flavonoidi sono necessari come cofattori. E il selenio è assolutamente necessario perché è il cofattore della deossidasi del glutatione. Quindi questa persona ha sicuramente un sbilanciamento nella sua capacità di detossificazione e noi adesso abbiamo la chiave per riportare la situazione indietro. Ad esempio in questa persona che c'è carenza di arginina si potrebbe pensare che soffra di ipertensione perché l'arginina è necessaria per il mio rilassamento del vasi. Delle pareti vascolari. Quindi a secondo delle persone che noi studiamo, prima abbiamo visto se avevano bisogno di necessità, le sue domande, le sue richieste. The person you had just seen with a demand for sulforofane and other things, this is the toxic load page of the same person with a heavy issue with toxic metals. Ok, prima ad esempio abbiamo visto una persona che aveva carenza di sulforofano e ora poi se si abbinasse questo che è un carico tossico, soprattutto in questo caso di metalli pesanti. Nello stesso tempo è anche importante chiederci se ci sono dei disturbi derivanti da parassiti. Allo stesso tempo... Allo stesso tempo... Allo stesso tempo... Parasites often are forgotten, but somehow they are also overemphasized. In qualche modo i parassiti sono spessi o dimenticati o in altri casi sono esagerati. Qualche volta se ad una persona viene fatta la diagnosi della presenza di un parassita, qualunque sua situazione viene riportata alla presenza dei parassiti. Ok, a volte facendo l'S-Drive si scopre che invece quel parassita non ha più importanza nel generale le situazioni di malattia di quella persona e che invece sono state dimenticati altri fattori. Una caratteristica peculiare dell'S-Drive è la sua capacità di determinare l'ipersensibilità ai campi elettromagnetici. Questo è davvero un grande fattore. Ed è anche altamente importante proprio ai nostri tempi moderni. Molte persone non sono molto influenzate dal campo elettromagnetico. Ma un numero abbastanza rilevante di altre persone lo sono molto. Ma questo non può essere misurato in nessun risultato di analisi del sangue. E in realtà, se le persone ipotizzano di poterlo fare con i valori del sangue, vengono espulsi dalla clinica. Però ci sono delle persone che sono molto influenzate da questi campi. Non voglio annoiarvi con un discorso di allergie. Non si parla di allergie, ma di quanto alcuni cibi in realtà ci tolgono energia invece che darcene. Cioè ci sono alcuni cibi che ci richiedono l'utilizzo di molta energia senza darci un apporto adeguato della stessa. And the S-Drive report shows us those foods to avoid within the next 90 days, just to maintain our energy level. Ok. L'S-Drive ci dà un elenco di cibi che è bene evitare per 90 giorni e sono proprio i cibi che ci toglierebbero energia. L'idea è quella che appena un individuo, un nuovo paziente, arriva alla nostra osservazione in clinica, Dovremmo avere un assistente che addirittura faccia un test prima che noi possiamo vederla. Questo è desiderabile. Dopo 15 minuti si ottengono i risultati che possono assolutamente essere utilizzati nel primo colloquio informativo. Possiamo usare queste informazioni nel rendere prioritarie, proprio nell'aiutarci a fare dei pensieri che ci permettano di rendere prioritarie alcuni test piuttosto che altri. E anche che ci diano un impulso. Un impulso in cosa scegliere come supplementi, come integratori. After 90 days, after 3 months, then you do the next test. Si ripete un altro test dopo 3 mesi, 90 giorni. You will see the changes within the scope and you will see where the person is now. Si potrebbe così osservare un cambiamento all'interno del scalpo e vedere a che punto è arrivato l'individuo. Because now it is time for the next level in therapy. È il momento di un altro livello di terapia. And you continue within the course of 90 days to look where is the person now. L'ottimale è continuare con cicli di 90 giorni a osservare come sta quel paziente in quel momento. Test dopo test si dovrebbe segnare come un percorso illuminato, ok? Anche perché alcuni fattori possono uscire dall'equazione. At the same time, the patient can also document how they feel. And then it helps them to see the changes and the progress. Nello stesso tempo, il paziente stesso può fare una autovalutazione di come si sente e questo verrebbe test dopo test fatto in modo da segnare anche la sua sensazione di miglioramento. And obviously this not applies to the baby and child report in the same way, but with the baby and child report you also have the potential to support those little ones which need to be brought into this world the best way possible. Ok, ovviamente l'aspetto dell'autovalutazione non si può applicare al report dei bambini, ma è essenziale che ricordiamo che questo test è importante per questa categoria di età, proprio per aiutarli a entrare in questo mondo nel miglior modo possibile. You have now understood why the S-Drive works individually. Dovreste a questo punto aver capito come l'S-Drive lavora individualmente. Perché fa proprio delle domande agli organismi e poi in qualche modo incontra le richieste dell'organismo. Ok, quindi guardando a queste influenze epigenetiche noi possiamo ottimizzare non solo la salute di un individuo ma addirittura la sua vita. Non dovremmo stare lì a pensare troppo. Se dovessimo fare un test a una persona no, lui ci suggerisce di farlo a tutti i singoli pazienti. Quello che si suggerisce è che poi il paziente riesce proprio a vedere il cambiamento. Un cambiamento della creatinichinasi è qualcosa che non sapevano prima e neanche riescono a immaginare dopo. Ma se vedono un report completo come questo e che gli fa vedere una riduzione ad esempio del carico tossico, è qualcosa che li tocca di più dal punto di vista emozionale. E a lui capita spesso che i pazienti chiamino per dire ma come si è dimenticato di richiamarmi? Sono passati 90 giorni, è ora del mio test. È un ponte proprio che permette di integrare il paziente nella sua terapia. Perché è facile da leggere e da interpretare per tutti i protagonisti, il medico, i terapisti e anche i pazienti. Grazie davvero per l'attenzione e per aver ascoltato. Mamma mia, ma grazie a Simona. Simona, grazie di cuore. Grazie a te perché ti abbiamo fatto fare. Però guarda, io non so, ma come fai Marcus a sapere tutte queste cose? Chiede, ma doveva studiare? È connesso direttamente con la libreria. Il suo divino, col divino. È impressionante. Incredibile, incredibile. Grazie davvero. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Poi abbiamo tra poco anche Bartolomeo che voleva dire la sua. Monica, di un po', ecco, tra l'altro abbiamo assistito a una serata meravigliosa. Allora, io a parte che sono incollata qui davanti al video perché ascoltare Marcus è meraviglioso, è una fonte di conoscenza per noi medici inestimabile. E poi la mia gratitudine va a te, Giorgio, perché S-Drive mi permette oggi di vivere delle emozioni uniche. Io, tu lo sai, ero arrivata al punto che non potevo più prendere altri bimbi, altri pazienti, altre famiglie da aiutare. Non potevo farcela più perché spesso il nostro lavoro è una missione e perché quando tratti bambini con problemi del neurosviluppo la tua centratura, la tua presenza, la tua reperibilità fanno sì che a un certo punto ti devi fermare. E io quindi avevo detto basta, non potevo più prendere nessuno e quando è arrivato l'S-Drive nella mia vita tutto è cambiato. Perché l'S-Drive è l'unico strumento e anche io, come il dottor Sfattini, che prima ha sottolineato quanto in realtà non ci sia in questo nessun rapporto di amicizia con te o situazione di gratitudine che va al di là di un esame unico nel suo genere ed è l'unico strumento che mi ha davvero permesso di nuovo di aiutare. Perché quello che prima facevo in due ore e mezza di valutazione e ora fa parlare davvero chi non ha voce. Io spesso mi trovavo appunto a gestire bimbi non verbali, con problematiche del neurosviluppo, dove non sapevo da dove partire. S-Drive ha portato quel valore aggiunto che con tranquillità, serenità e centratura e anche se vogliamo, come posso dire, trasparenza per il paziente. Che davanti a te si vede un test che gli parla del bimbo e cambia tutto. E oggi, quando tu mi hai chiesto oggi, a un certo punto nella giornata, mi hai detto stasera ci sei e io ti ho detto sì. Ma dopo che tu mi hai iscritto, Giorgio, e tra l'altro quando io ti ho cercato stamattina tu correvi, e questo va detto al dottor Spattini, che sei veramente un mito, e sarò fiero di te, però a parte quello che io ti ho cercato stamattina e correvi, quando tu mi hai detto oggi pomeriggio se c'ero, dopo un minuto mi arriva un messaggio vocale di una mamma. Di una mamma che mi ha portato il bimbo a fare l'S-Drive, io, bimbo di tre anni, con sindrome di Down e problemi del neurosviluppo, contratto autistico, non verbale, non vedente, cioè non è non vedente, vede poco. Sindromi comiziali, purtroppo che hanno dovuto portare il bambino a prendere dei farmaci importanti, da un punto di vista anticomiziale, quindi col suo processo, con i suoi sistemi di detossificazione in grande difficoltà. I genitori vengono in virtù del fatto che ho l'S-Drive, perché io così l'ho potuto prendere. Ho detto, va bene, venite, facciamo il test. Abbiamo fatto il test e il bambino non si reggeva in piedi, Giorgio, non aveva un'ipotonia importante e generalizzata dopo questi farmaci peggiorativa, ingravescente. Si addormentava in continuazione, poco responsivo, poco responsivo, nella verbalità non interattivo. Faccio l'S-Drive, viene fuori pieno di sostanze chimiche, con una fetta della torta allucinante, veramente incredibile, geopatie, problematiche intestinali non come priorità di trattamento ma come vulnerabilità importante, io in poco tempo imposto una terapia di drenaggio delle sostanze chimiche, ovviamente facendo i conti con la necessità di continuare con la terapia farmacologica. Non è che potevo permettermi di rimuovere, di deprescrivere, però umilmente ho chiamato la neurologa e gli ho detto, guarda, l'ottica insieme, io sono fisiatra e mi occupo di neuro-riabilitazione, se mai un giorno potessimo ridurre un pochino i farmaci, io sono certa che forse il bimbo potrà recuperare anche la sua tonicità. La dottoressa è stata splendida, mi ha detto, guarda, non ti prometto niente ma vedremo, e oggi dopo un minuto che mi iscrivi tu, quindi anche quello veramente, te lo faccio sentire Giorgio, aveva un elettroencefalogramma disastroso. Grazie di cuore di questa importante testimonianza. Spero che si senta perché non lo so, un attimo. Aspetta, pensa, sono talmente emozionata che avevo le cuffie io e le sentivate voi. Buonasera a tutti. Allora, voglio condividere questa cosa che è un super successore, perché oggi siamo andate alla dottoressa, e l'elettroencefalo ha detto che praticamente non sembra neanche più quella di Gabriele. Di tante crisi, quelle più, o peggiori insomma, che diceva lei, in tutto il tempo che gli hanno fatto il monitoraggio ne ha avuta una che prima erano sempre. Quindi ha detto che è veramente contenta e praticamente una delle due pastiglie ce la toglie, che è quella che gli dà più disturbi, quindi è benissimo. Ha detto che la parte sinistra è ancora un po' in sofferenza, anche con la linguaggia, però insomma, tanta tanta roba. Adesso vi volevo chiedere una cosa. Eh, Gabriele, allora, mi fa sempre la cacca. Adesso mi fa il numero 4, quindi la bella cacca, però... Adesso fa la cacca, mi stava parlando della cacca, ho chiuso, ma... Mamma mia, che gioia infinita. Che gioia, tanta roba veramente. Io mi sono organizzata così, che quando vedo i bimbi e faccio il less drive, io ho un team che mi aiuta, non sono sola. E nel team ci sono persone che ho formato e che a loro volta loro formano me, perché si sa che... Quello che noi insegniamo, anche apprendiamo. E quindi c'è l'aromaterapeuta che si occupa degli oli essenziali. Quando io muffe spore, vi garantisco che nella presenza di muffe spore, l'uso dell'olio essenziale aiuta tantissimo. C'è l'esperta nelle geopatie, c'è la persona che mi aiuta nella ricerca scientifica, nella parte delle emozioni. E quindi così stiamo riuscendo ad aiutare. Ma solo perché c'è less drive, perché altrimenti io non avrei mai potuto continuare ad aiutare. Cioè mi dovevo fermare, perché i pazienti che ho continuano a esserci e la reperibilità è tale, per cui non avrei più potuto, Giorgio. Ma mi ricordo quante volte ti chiedevo guarda c'è da aiutare questa persona e tu mi dicevi, Giorgio, volentieri, ma non ce la faccio più. Quindi più persone aiutiamo, meglio è grazie a questi strumenti che sono mezzi di comunicazione, di supporto certamente. Però penso che quella volta che ero in la città del Messico, a questo congresso mondiale di medicina anti-aging, dove l'ho conosciuto per caso, perché ero lì per il congresso Selfood, e quando questa persona parlava, che mi presentava quello che le potenzialità di questo strumento, vi devo dire che oltre alle farfalle nella pancia, tipo innamoramento, e dici una cosa particolare, che senti poche volte, e questo proprio forza che ho avuto a livello proprio di entusiasmo nel venire in Italia e divulgarlo a più persone possibile. Perché tutto quello che noi diciamo, Monica, attenzione a quello che mangi, che bevi, che respiri, che pensi, sì, poi alla fine il quantum qual è? Cioè, cosa ne sai? Ecco, penso che quando parliamo di medicina di precisione, dovremmo parlare di medicina preventiva, di precisione, che è molto, no, più corretto e più in linea con quello che dovrebbero unire quelli che fanno questo mestiere. Assolutamente. E poi l'altra cosa bella che ci permette S-Drive, che mi permetto di dirlo qui, perché vedo tanti professionisti ed è bellissimo a vederli qua, è la rete. Io oggi ho parlato con il dottor Di Meglio e con l'altro giorno con Guido Marini e con Bartolo praticamente due giorni sì e due giorni no, cioè lo disturbo in continuazione perché è un mito per noi di insegnamento. E questo team, questa rete, secondo me è qualcosa che non ti fa mai sentire solo. Ecco. stiamo facendo qualcosa di meraviglioso e grazie di cuore per quello che fai, per quello che fate e per la fiducia insomma in quello che stiamo facendo perché è inutile da soli non si va da nessuna parte quindi bisogna creare una squadra e questa connessione bellissima con l'idea che mi hai detto oggi che poi ne parleremo. È fondamentale perché poi alla fine il medico deve garantire professionalità, qualità e no? In quello che gli altri io credo tanto nella rete, credo tanto nell'unione tra noi e questa cosa che ho percepito al congresso a Bologna era tangibile. Grazie. Mamma mia, 650 persone tutti lì a seguirci in quello che stiamo facendo. Quindi grazie di cuore, grazie Monica e adesso sai che